Ciao, sono Annarita Chilosi, videoagente immobiliare di Viareggio e di tutta la Versilia. Hai deciso di mettere in vendita casa tua e non vuoi dare l'esclusiva? Sai cosa succederà? Che nessuna agenzia investirà sulla tua casa. Tu rischierai di vendere tra 30 anni e a prezzo stracciato. Vuoi sapere perché? Te lo spiego io. Con l'esclusiva noi possiamo investire soldi sulla tua casa in pubblicità, fare video che vedranno tutti e chi verrà a vedere la tua casa sarà già predisposto all'acquisto. Se stai vedendo questo video sai che funziona? No? Ma soprattutto gli acquirenti non la vedranno con 3.000 prezzi diversi, foto di tutti i tipi e dando l'impressione che la si voglia vendere a qualsiasi prezzo che sia dalla canna del gas. Tu non la vuoi svendere, vero? Non pensare che affidando l'incarico a tante agenzie aumenterai la probabilità di vendita. Se qualche agenzia ha un cliente interessato si potrà rivolgere a me e insieme a te decideremo cosa fare. Io presenterò la tua casa come se fosse la mia e tu potrai stare tranquillo e rilassato. non perdere ancora tempo, chiamami subito al numero qui sotto, venderò la tua casa al meglio che tu desideri.